per cui l'ospite è disvelato da subito, è venuto a trovarci grazie a Francescato che accogliamo con grande affetto e con grande gratitudine. Grazie a Francescato la conoscete tutti, non ha bisogno di grandi presentazioni però è interessante nell'intreccio di oggi, mi piace ricordare in qualche modo la grazia a Francescato che partecipa, che fonda la prima rivista femminista un bel po' di anni fa e che nello stesso tempo un altro bel po' di anni fa si ritrova a Stoccolma, il primo incontro dove si cerca di tenere insieme l'ecologia, la sostenibilità, l'ambiente, l'economia e questo è stato il cammino a cui ha dedicato tutta la sua vita, un cammino dove si sono andati ad intrecciare questi due fili come ci racconterà lei che hanno a che fare col femminile e con l'ambiente in un senso veramente ampio del termine e che ritroviamo in questo libro straordinario, Stay in a Live, Women, Ecology and Surviving India di Bandana Shiva che in qualche modo ci riporta a quello che stiamo dicendo e che stiamo raccontando tutto quello che sentiremo questa mattina è nel bene e nel male di strepitosa attualità per cui io vi ricordo soltanto che a proposito dell'attualità dalla Croce Rossa ci hanno segnalato che è grande la vostra partecipazione però in questo momento nei punti di raccolta della Croce Rossa italiana anche qui a Scandicci c'è un problema legato alle scarpe per bambini e ragazzini dagli 11 ai 15 anni quindi se volete dare il vostro contributo tenete presente questa esigenza della Croce Rossa. Grazie Francescato, grazie davvero. I latini dicevano nome e nome, nel nome c'è il destino, mi chiamo Grazia, ringrazio due volte. La prima per questo ritorno a Scandicci ci sono già stata con padre Guidalberto Bormolini che tutti conoscete che sarà qui presto ospite, quando abbiamo fatto, non mi ricordo sarà cinque anni fa, prima della pandemia, una serie di eventi dal titolo Economia e Spiritualità che uno dice che cosa hanno a che fare economia e spiritualità, bene adesso stiamo facendo addirittura politica e spiritualità, quindi vedete che l'audacia non ha confini, poi lui vi racconterà anche i risultati, anche io oggi parlando di Vandana Shiva. Il secondo grazie è perché mi avete chiesto di parlare del libro della mia vita, allora dovete sapere, lo posso dire? Sì? Quando Raffaele mi ha chiamato, oh che bello, ho detto sì sì perché il libro della mia vita è Walden di Henry David Thoreau. Sento dall'altra parte un silenzio imbarazzato, dico ma perché non va bene? E sì, va bene, diceva, l'ha già scelto ma uncuso, mannaggia, come si dice a Roma. Allora ho scelto un altro libro che non è un ripiego, è un libro bellissimo, di una donna straordinaria che penso molti di voi conoscono, Vandana Shiva, che tra l'altro sta anche qui e di casa, nelle vostre zone, perché a Firenze ha fondato Nardania International, poi è venuto un sacco di volte. Vandana l'ho incontrata, saranno, stavo facendo i calcoli l'altro giorno tra i 30 e i 40, perché io sono figlia del millennio scorso, quindi i due fili, rosa e verde, F è stata fondata nel 73, forse quella che ha i capelli bianchi come me se lo ricordano, e io ero 50 anni fa a Stoccolma, prima conferenza su ambiente sviluppo, e quello che vi devo dire, e che mi raggela al cuore, sul tavolo c'era già tutto, c'era già la denuncia dell'intreccio tra crisi ecologica, crisi sociale e crisi economica e crisi culturale, aggiungo io, forse la più grave di tutte, e c'erano già anche i rimedi, ma sembravamo, ci dicevano che eravamo utopisti, quando dicevamo che ci sarebbe stato il cambiamento climatico, che c'era la perdita di biodiversità, ci dicevano ah, catastrofisti e Cassandre, però mi sembra che Cassandre poi alla fine, no? Ecco, come direbbe Montalbano ci aveva insertato, aveva indovinato, e poi anche i rimedi, quando noi gli dicevamo, che sono quelli di oggi, efficienza energetica, rinnovabile, ma tutti quanti lo fanno, o lo dicono di farlo, e ci dicevano che eravamo utopisti. Allora, Vandana Shiva l'ho incontrata alla conferenza di Stoccolma su ambiente sviluppo, in quella famosa vertice della terra, nel 90, scusate, a Rio de Janeiro, nel 92, 20 anni dopo la conferenza di Stoccolma del 1972, per dire come è valenta la presa di coscienza. Non c'era solo Vandana Shiva, questo lo dico per le donne, quando eravamo a Stoccolma erano quasi tutti uomini, io ero con personaggi del genere Antonio Cederna, che lo ricorderete, un grande giornalista, Nebbia, Giorgio Nebbia, che è stato un merceologo veramente di grido, insomma, gente davvero grande dal punto di vista del pensiero, però donne erano poche, eravamo pochissime. Invece, nel 92, a Rio de Janeiro, c'era addirittura un tendone che si chiamava Planeta Femea, grande tre volte questo, pieno di donne in attività, e c'erano queste due stelle polari, una Vandana, di cui parleremo oggi, e l'altra, non so se qualcuno se la ricorda, Vangari Matai. Vangari Matai è una donna kenyota, io all'epoca scrivevo per Airone, poiché questa era una bella rivista di viaggi e di ecologia, di ambientalismo, e ho fatto un ritratto di Vangari Matai, e ho scritto che se madre terra avesse un sorriso sarebbe quello di Vangari Matai. Questo sorriso radioso, e anche Vandana è piena di gioia e di vita, credo che questo sia un elemento molto importante da tenere in conto. Comunque Vangari è stata scelta per parlare alle delegazioni governative, a nome del più delle 8 mila NGOs che erano presenti in quel momento, c'erano 20 mila giornalisti, è stato veramente un momento in cui sembrava che si potesse davvero imboccare la strada dello sviluppo sostenibile, cosiddetto, poi sulla sostenibilità che è un mantra, torneremo dopo, e invece poi si è continuato più o meno business as usual, e abbiamo perso una grandissima occasione, perché adesso, dopo la pandemia, e dopo, io spero al più presto che si chiuda questa orribile guerra che ci riporta indietro di 30 anni, che poi non è soltanto la guerra, e che tipo di guerra è? Così barbara, così medievale, le donne che fuggono con i bambini, i mariti, i figli che restano là a combattere, è una cosa che raggela il cuore, soprattutto per quelli come noi che hanno creduto e lavorato tutta la vita per il salto di qualità della coscienza collettiva, ecco io spero che dopo, quando finalmente potremo metterci a fare non la transizione ecologica, che spesso è finzione ecologica, ma la conversione ecologica, come la chiedeva e la voleva Alex Langer, forse anche lui, qualcuno di voi lo conosce, che è stato veramente la persona che ha volato più alto nel mondo dell'ambientalismo, ecco allora potremo capire in quel momento quanto la lezione di persone come manda nasciva è preziosa. Allora, per chi non la conosce rapidissima, nasce nel 52 a Deradun, insomma alle pendici dell'Himalaya, in una famiglia progressista, pensate nell'India di allora credevano nella parità di genere, facevano la lotta contro il sistema delle caste, erano insomma discepoli di Gandhi, quindi non ci stupisce che a un certo punto la madre che era maestra, va a vivere in campagna, in una farm, in una fattoria, quindi la bambina Vandana entra in contatto con la foresta, con la natura, infatti c'è un intero capitolo in un libro dedicato a cosa significa la foresta e il legame tra donne e foresta, e decide di fare la scienziata. Va a laurearsi in fisica quantistica all'epoca, in Canada, pensate un po' una donna, torna e fa, è giovanissima, fa una fondazione, crea una fondazione nella sua città dedicata alla scienza, alla tecnologia, all'ambiente eccetera. A un certo punto succede, sapete quelle cose che cambiano la vita? Incontro al movimento Cipco, alzi la mano chi di voi l'ha sentito nominare? Allora Cipco in sanscrito significa abbracciare, perché nel 1730 una donna che si chiamava Amrita Devi, che stava in una comunità alle pendici dell'Himalaya, insieme ai suoi amici, i suoi compagni, i suoi concittadini, chiamateli come volete, aveva deciso di abbracciare gli alberi per salvarli dall'abbattimento voluto dai soldati del regio locale, 1730, Amrita Devi. Viene ripresa questa stupenda iniziativa di abbracciare gli alberi da contadini, soprattutto donne e bambini di quest'altra comunità che era sempre vicina a quella di Amrita Devi e questa volta i nemici non sono più i soldati, sono quelli che vanno a prendere il legname, donne, quelli che, come dice lei e come sempre detto anch'io, considerano la natura, non la madre sacra da rispettare, ma un supermercato, dove andare a prendere quello che ci serve, che è esattamente, esattamente la mentalità odierna, no? La natura, ieri ci servono il petrolio, domani ci servono le terre rare e siamo a questo punto proprio per colpa di questo pensiero. Quindi queste donne cosa fanno? Abbracciano questi alberi e li difendono. Il movimento che poi si irradia per tutta, per una gran parte dell'India e dura parecchi anni, lei lo descrive punto per punto e battaglia per battaglia, fa una impressione profondissima alla nostra Vandana, la quale decide, basta, io non voglio fare la scienziata nucleare, pensate quanto avrebbe guadagnato e quanto sarebbe andata potente in India, voglio stare al fianco di queste donne, di queste, portare avanti queste battaglie e occuparmi di difesa della natura, di difesa dell'agricoltura, poi vi spiegherò che cosa significa e questa sarà la mia mission. Che cosa fa allora? Nel 1982 ho detto ha fatto questa fondazione e nel 1988 scrive questo libro che è stato tradotto, adesso ve lo faccio vedere, sopravvivere allo sviluppo, che non è un bel titolo, perché il titolo vero, quello originale, è molto più efficace e dice staying alive, rimanere vivi. Vi vengono i brividi a pensare oggi che tutti noi siamo costretti a sperare alla fine di questa guerra che nessuno butti una bomba nucleare, voglio dire per la prima volta, almeno io ho 75 anni, quindi ho vissuto sempre nella pace, nella pace qui almeno, poi i conflitti nel mondo sono tantissimi, per la prima volta siamo costretti a pensarlo anche noi in questi termini ed è agghiacciante. Quindi staying alive, rimanere vivi. Women, ecology and survival in India. Donne, ecologia e sopravvivenza in India. Allora, lei che cosa fa? Prima fa una critica, aspettate, la dedica, la dedica è importante, la dedica è a mia madre per avermi lasciato il coraggio di pensare e agire in maniera diversa, perché lei ha potuto crescere, essere veramente se stessa e diventare una guida, una stella polare per così tanta gente al mondo, perché la madre, la madre aveva già lei dato l'esempio nel suo piccolo. Pensate quanto è importante questa linea, no? Le consegne della fiaccola tra madre, figlia, nonne, nipote, è una cosa che credo ognuno di noi, nella propria famiglia, la mamma, la zia, la nonna, qualcuna che ha insegnato a tenere la testa alta, a seguire il proprio daimon, come direbbe Hillman, a seguire la propria vocazione interiore. E lei la segue, grazie alla madre, che le ha consegnato l'audacia, il coraggio. Il coraggio, guardate, è una delle virtù più importanti del mondo. Io l'ho scoperto, non mettetevi a ridere, ma grazie ad Harry Potter, non so quanti di voi hanno letto Harry Potter, la Rowling. Allora, io un giorno tornavo da, parecchie, molti anni fa, un paio di decadi fa, quando è uscito, saranno 30 anni che è uscito, no? Tornavo dagli Stati Uniti e vicino a me in aerea c'era un bambino che aveva 8-9 anni, il quale era immerso in questa lettura di questo librone e non ha mai smesso, ha letto per 6-7 anni. Ho detto, ma come mai i bambini in genere, insomma, non è facilissimo farle leggere? Allora alla fine gli ho chiesto e lui mi ha raccontato tutta sta storia. E io l'ho letto, il libro scritto tra l'altro in inglese bellissimo. E ho capito che il genio della Rowling è stato non negare l'esistenza del male, perché noi i nostri bambini cerchiamo di non dirglielo, e che è una certa età anche giusto, diciamocelo, quindi di fargli pensare, insomma, di fargli vivere in un mondo, se non proprio da favola, almeno bello, buono. Lei invece il male lo butta davanti a questi bambini, però gli insegna anche come affrontarlo, non da soli, non da soli, ma con altri. I tre bambini sono esemplari da questo punto di vista. Harry Potter ha il coraggio, coraggio a volte incredibile. La bambina Ermione, ed è bello che sia una bambina, è la conoscenza, è la saputella, no? Quello che sa tutto, quello che studia, che è fondamentale, il coraggio unito al sapere. E il bambino, quell'altro come si chiama Ron, mi pare, è la bontà. Lui è un po' un salamone, quello che chiamiamo un bambino che magari non ci arriva, però questa bontà unita al coraggio e unita all'intelligenza fa fronte e argina al male. È una lezione incredibile, importantissima per i bambini. È fatta in maniera non noiosa, perché ai bambini devi raccontare le storie, ma anche agli adulti, perché è attraverso le storie che si impara, che si impara a vivere. Allora, nel caso di Vandana, la cosa che mi ha colpito di più, che l'ho intervistata trent'anni fa, è il fatto che lei ha condotto una vita glocal, assolutamente a livello planetario. Lei ha vinto una caterva di premi a cominciare dal 1993, che ha vinto il Right Live Award, è stata definita The Times come una, mi pare, nel 2003 o 2005, come una degli eroi dell'ambiente, ha collezionato infiniti riconoscimenti, è stata ed è all'interno di moltissime organizzazioni in posizione di leader, anche solo food, per dire, qui in Italia. Io l'ho incontrata poi in tantissimi appuntamenti internazionali in cui non vi faccio l'elenco, se no sarei qui fino a domani mattina, e lei ha scritto un sacco di libri, non so se qualcuno di voi li ha letti, aspetta, mi siedo per leggerli, perché l'elenco va fatto, così capite chi abbiamo davanti. Se trovo, eccolo qua. Dunque, lei ne ha scritti tantissimi, li ho tirato fuori, vabbè, questo qui del 1988, sopravvivere al mal sviluppo, ha scritto Monoculture della mente nel 1995, la biopirateria contro gli OGM, saccheggio delle natura e dei saperi indigeni, su cui torneremo anche a questo nel 1995, le guerre dell'acqua, è stata la prima a denunciare i conflitti e le guerre per il possesso dell'acqua, che è l'oro blu, molto più importante del petrolio, del terrerare, di tutte queste materie prime su cui ci sono i conflitti, dalla parte degli ultimi, una vita per i diritti dei contadini, il 2008, perché lei ha sempre messo assieme alla difesa della natura e la difesa dei diritti, non ci può essere un gap tra queste due battaglie, e anche la battaglia contro il cambiamento climatico, la giustizia climatica, va di pari passo con la giustizia sociale e con la difesa dei diritti, non si possono separare, è una battaglia sola, ecco l'importanza dello sguardo olistico. Poi ha scritto campi di battaglia nel 2005, perché sono veramente campi di battaglia quelli agricoli, non so quanti di voi sanno, poi ne parleremo di nuovo quando accenderò a Nardania, che i nostri semi, i semi da cui dipende la nostra vita, i nostri cibi sono in mano più o meno a 5 o 6 multinazionali. Una volta i nostri nonni, siamo tutti figli di contadini, io sono nipote di contadini, non mettevano da parte i semini, purtroppo questi brevetti delle multinazionali contro cui abbiamo fatto enormi battaglie, anch'io ho fiancato Vandana in questa battaglia contro l'OGM, significano proprio espropriare i contadini, gli agricoltori del mondo di questo che è il loro tesoro, e quindi renderli anche incapaci di garantirsi la sopravvivenza. Poi ha scritto, l'ultimo vi dico l'ultimo che è molto bello, dalla vidità alla cura, adesso ci arriva al concetto di cura, la rivoluzione necessaria per un'economia sostenibile, io dico davvero sostenibile, perché oggi sostenibilità è un mantra, tutti sono green e tutti sono sostenibili a parole, peccato poi che non ci sia la coerenza. E qui arrivo al secondo aspetto della vita di Vandana, abbiamo detto che lei è global, e l'altra cosa importantissima della vita di Vandana è la coerenza tra pensieri e azione. Noi siamo abituati a politici, intellettuali, che predicano e ne fanno un'altra, no? Invece Vandana è, lei ha questo pensiero nitido, lucido, consapevole e caldo, questo ci arriverò, e Vandana è assolutamente coerente, lei crede nella circolarità tra pensieri e azione, allora difende i semi e fa una fondazione come Navdania, Navdania vuol dire nove semi, che sono i nove semi tipici delle culture indiane, la fa e hanno praticamente allenato, addestrato a difendersi più di 500.000 contadini in giro per il mondo, hanno fatto 65 banche dei semi, quindi predica e fa l'azione e il pensiero circolare. L'altra cosa, quindi abbiamo detto glocal, abbiamo detto coerente tra coerenza tra pensieri e azione, è quella che io chiamo intelligenza calda. Allora, se voi mi faceste una domanda, cara Grazia, dopo 50 anni di ambientalismo, quale pensi che sia l'ecosistema più a rischio? La foresta amazzonica? Adesso poi con Bolsonaro distrutta a ritmi forsennati, con anche i popoli indigeni che si devono di nuovo difendere, che Bolsonaro vuole togliergli il diritto per rimetrare le terre e così via, vi direi sì ma, mi potete dire, ah le barriere coralline che sono al 95% sbiancate dal cambiamento climatico, sì ma sapete per me qual è l'ecosistema più a rischio? E io lo dico da almeno 20 anni, è questo, è la mente umana, perché aveva ragione Conrad Lorenz, ve lo ricordate Conrad Lorenz è questo scienziato, no, che studiava, etologo, che studiava il comportamento degli animali, lui in un libro bellissimo che si chiama Il declino dell'uomo, scritto più o meno anche, però proprio anche nell'88, diceva più veloce del degrado della natura corre il degrado dell'essere umana. Adesso voi oggi aprite la televisione e ditemi se non aveva ragione, aveva purtroppo ragione, quindi l'ecosistema più a rischio è questo, ma soprattutto questo, il collegamento mente-cuore, mente-cuore, perché non serve a niente essere, si serve ma insomma l'intelligenza fredda che mi dà i dati, le statistiche, ma non arriva qua. Allora, oggi, in questo inquietante ma stimolante inizio di terzo millennio, noi abbiamo bisogno di intelligenze calde, capaci di mettere assieme cuore, cervello, ragione e sentimenti e Vandana è così. Quindi, glocal, coerente e intelligenza calda, avete detto niente, una forza della natura. fantastica. Allora, adesso, però, siccome devo parlare del libro, vi leggerò alcuni passaggi, perché lei è talmente brava, io mi ricordo una volta che sono, tra le altre cose, dentro l'Aspen Institute, Can Think Tank Be Partisan, in cui mi ha introdotto Giuliana Mata all'epoca in cui ero presidente dei Verdi, quindi ero dentro l'ulivo, ero un'unica donna, ragazze, per carità, tutti maschi eccellenti, D'Alema, Brutelli, però, insomma, era dura, eh? Va bene, e adesso c'è il presidente di Tremonti, sono bipartisan, quindi posso trovare alloggio pure io, mi invitano sempre, e comunque una volta gli ho fatto un po' uno scherzetto, loro mi chiedevano chi potevo portare a parlare, insomma, io porto Vandana Sciva, senza spiegare bene che tipo era, no? Faccio il mio, una scheda, brava, questa viene, ragazzi, li ha stesi. Io, seduto in prima fila, sogghignavo, devo dire la verità, per dire che lei è in grado, io l'ho vista in tutte le conferenze ONU, la Banca Mondiale, una capacità di tenere testa agli esperti, quasi sempre maschi, con non solo appunto questa infinita quantità di dati, ricerche, e quindi tutta la parte dell'intelligenza, non a caso lei ha fatto la scienziata nucleare, quindi scientific based, ma con questa passione, questa forza del cuore che alla fine ha una sua, ha un suo potere, una sua potenza, perché potere è una parola che è meglio non usare adesso. Quindi lei in questo libro getta i semi di tutto, io me lo sono riletto bene per venire qui, e vi voglio adesso leggere qualche passaggio, lei già allora aveva chiarissimo, aveva chiarissimi tasselli del mosaico, e aveva chiarissimo il mosaico, cosa non facile, perché noi ci perdiamo spesso tra i tasselli, e quello che manca oggi è una visione d'insieme, una visione olistica, ed è il motivo per cui ho lasciato la politica dei partiti, più di ormai 2013, l'ultimo passaggio è stato in SEL, con Vendola, perché? Non perché non ho nessun tipo di polemica, sono in ottimi rapporti con tutti, però secondo me la politica, guardiamo la pancia delle parole, è un progetto per la polis, per la comunità, e per me che sono ambientalista, animalista, la comunità non si limita agli umani, non siamo solo noi, sono le piante, gli animali, gli ecosistemi, noi siamo il tassello di un mosaico, che è il mosaico della vita, ecco l'importanza dell'interconnessione, che la pandemia ci ha gettato in faccia, perché se voi avete le mascherine, e se io devo stare qua a distanza, è perché un invisibile, non sappiamo neanche se sia vita o no, qualcosa in bilico tra vita e non vita, domina il mondo, si chiama coronavirus, c'è la corona in testa, perché è lui che decide, lui o lei, quello che è è questo essere, ecco, quindi capite l'importanza dell'interconnessione. Allora, dopo la pandemia, molta gente, non tutti, ma molti, io penso anche voi che siete qui, ha capito una cosa che ci ha gettato in faccia il virus, che non c'è più un prima a cui tornare, c'è un dopo da inventare insieme, e questo dopo, secondo me, però mi ha fatto piacere di leggere il libro perché lei dice le stesse cose, ha tre stelle polari che ci indicano la rotta e che ci dicono quale percorso seguire, un percorso tutto in salita, incredibilmente accidentato, ma non è vero che è un bagno di sangue, come dice uno che non cito, che è un trasumanista che siede al mite. Allora, quali sono le tre stelle polari? Prima stella è la cura. Pensate che adesso Vandana, uno dei suoi ultimi impegni, mi pare a gennaio, si era a gennaio, a Oxford, è stato proprio sul cibo, sempre sul farming, il significato della battaglia per il cibo oggi, e lei, mi pare che proprio il titolo del suo intervento mettesse al centro il concetto di cura. Allora, la cura, dovete sapere che nel pantone dei latini, era una dea minore, una di scarsa importanza. Il suo compito qual era? La manutenzione, ragazze, cioè quello che facciamo a casa, in famiglia tutti i giorni, spesso aiutate, grazie al cielo adesso anche dai maschi progressisti. Cioè, lei doveva mantenere la forma della vita, di tutto ciò che ci circonda. E non era considerata, insomma, Giove, Venere, queste qua erano strafiche, lei, insomma, poveretta, la cura, l'ancella. Ma senza di lei tutto sarebbe morto. Allora, il concetto di cura ha in sé due ingredienti fondamentali. Uno, la presa di responsabilità. Io, grazie a tu Maria Giovanna, tu Raffaele, mi prendo cura di il basilico sul balcone, il gatto di casa, la mia famiglia, il territorio, il pianeta. Ma lo faccio mettendoci il fuoco dell'empatia, della passione, dell'affetto, dell'amore. Ecco l'intelligenza calda. Mi prendo cura di. E questo concetto di cura, guardate, quando questa guerra finirà, speriamo presto, dovrà essere per forza centrale. Perché già la pandemia ce l'aveva fatto capire che se non ci prendiamo cura del pianeta di madre Terra, madre Terra, come tutte le madri, è molto indulgente, poi alla fine si stancherà e ci sfratterà, perché cominciamo a essere una specie estremamente dannosa. Appunto, secondo concetto, primo concetto, la cura. Secondo concetto, che viene fuori sempre nel libro di Vandana, l'interconnessione. Lei prima fa, quando fa la critica al mal sviluppo, cioè lo sviluppo tossico, per così dire, l'interconnessione la fa, come l'abbiamo fatta noi femministe, tra la violenza sulla natura e la violenza sulle donne. Non a caso si usa spesso anche lo stesso linguaggio. Quindi la natura e le donne, viste come sottomesse passive, è lì per essere, tra virgolette, sfruttate. E c'è, pare il secondo capitolo suo, in cui lei spiega come questo è avvenuto. Non è sempre stato così nella storia umana. È soprattutto un tipo di scienza moderna che cominciava con Bacone, che vede nella natura e nelle donne il territorio di conquista maschile. Attenzione, quando io dico queste cose e parlo di valori al femminile, cura, interconnessione sono valori al femminile, poi arriveremo al terzo della sostenibilità, io non escludo assolutamente gli uomini. Valori al femminile non vuol dire che sono esercitati, posseduti soltanto dalle donne, ma quando mai? Allora io ho fatto politica e vi devo dire che, pur essendo una femminista, non è che i miei occhi erano chiusi di fronte al fatto che molte donne, anche, non voglio dire inevitabilmente, ma quando si fa politica, voi lo sapete com'è, si è quasi inevitabilmente spinte a omologarsi al modello maschile, perché altrimenti si è fuori. Ecco, quindi è molto molto difficile resistere, ma io sono convinta, siamo tutte convinti, era convinto anche il femminismo del secolo scorso, appunto, abbiamo scritto molto, che molti uomini non solo possono partecipare di questi valori al femminile, ma per loro è anche bello, è conveniente, pensate per esempio adesso come è cambiata la figura paterna, no? Che i babbi di oggi sono molto diversi dai babbi di una volta, che è un bambino col pannolino per carità, adesso se ne occupano ed è anche una grande gioia, è una liberazione per i maschi lasciare cadere questa corazza del potere maschile che poi li soffoca. Se lo capissero di più, pensate adesso questa guerra, non c'è una donna al tavolo dei negoziati, è tutta un'esibizione di muscoli, capite? È pericolosissimo. Quindi questi valori al femminile, la cura, l'interconnessione, il fatto che appunto dobbiamo avere la visione olistica, ecco, possono essere, devono essere anche patrimonio dei maschi, degli uomini, di tutti quanti. L'ultimo è la sostenibilità, l'ultima stella polare, che adesso, ripeto, è diventato un mantra, ma il concetto di sviluppo sostenibile era già presente a Stoccolma, però ci sono voluti, dunque siamo all'87, fatto il calcolo, quanto ci è voluto, una quindicina d'anni, per arrivare alla definizione ufficiale. La cosa interessante è che la definizione ufficiale. Chi l'ha fatta? Una donna che si chiama Norvegese, che si chiamava Gro Arlen Brundtland. Lei l'hanno messa a capo di una commissione ONU che ha scritto un rapporto Our Common Future, il nostro futuro comune, e lei ha pensato a lungo, a me me l'ha raccontato, dice, perché non era facile definire come doveva essere questa sostenibilità. E poi mi è venuta in mente una cosa, che secondo me poteva venire in mente solo una donna, i nostri figli, i nostri nipoti, le generazioni che verranno. E allora ho pensato che la definizione doveva essere, adesso ve lo dico a memoria o qualcosa del genere, un tipo di sviluppo che ci permette alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni, senza mettere a rischio le generazioni future, cioè dando lo stesso diritto alle generazioni future. È bellissimo, perché è una forma di solidarietà intergenerazionale, a cui siamo chiamati oggi più che mai, che già all'87 questa donna ha dovuto anche un po' combattere, perché altri volevano fare più un discorso sulle risorse, oppure... E poi alla fine hanno capito che era importante mettere questo. E poi siamo passati, ve l'ho già detto, al 92, 1992, quando sembrava che finalmente il mondo veramente scegliesse la strada dello sviluppo sostenibile, perché lì a Rio de Janeiro sono state siglate due convenzioni chiave, quella sulla biodiversità e quella sul clima, che poi ha dato inizio alla lunga sequela delle COP, iniziata nel 95 a Berlino, che ha portato nel 2015, faccio un volo d'Aquila perché il tempo stringe, ai famosi accordi di Parigi, in un anno chiave. Il 72 è stato un anno chiave per Stoccolma e anche per questo libro, a proposito di libri The Limits to Growth, i limiti alla crescita, che è stato scritto da due scienziati del Uomo e Donna, del MIT, Massachusetts Institute of Technology, tradotto in italiano con i limiti allo sviluppo, su questo magari tu hai detto non c'è tempo per la domanda, ma una domandina sarebbe carina. Comunque insomma, sembrava all'epoca che potessimo cominciare, invece siamo arrivati al 2015, quindi vi rendete conto dell'enorme ritardo di cui nessuno sta chiedendo scusa. È una cosa incredibile, nessuno neanche lo sa, che è questo ritardo che ci fregherà nella battaglia al cambiamento climatico. Adesso abbiamo soltanto 7-8 anni di fronte e fare la transizione, la cosiddetta transizione ecologica, in 7-8 anni non sarà facile, per cui questa famosa sostenibilità rischia di diventare un mantra. Torniamo adesso al discorso che facevo sulla politica. Allora, questa visione olistica che gli scienziati, gli ambientalisti hanno costantemente messo davanti agli occhi della classe politica mondiale, davanti all'opinione pubblica mondiale, non è andata avanti perché la politica come visione, come progetto per la polis, si è svilita. Perché la politica dovrebbe essere visione del mondo, da cui discende una strategia, poi anche un po' di tattica, con chi faccio gli accordi, con chi mi alleo. Invece c'è stato, e l'ho vissuto in prima persona, un ribaltamento delle priorità, solo tattica. Quindi conquista, riconquista, mantenimento del potere. Strategia, pochina, visione del mondo, desaparecida. E torno al 2015, perché che ci piaccia o no, non si tratta di essere credenti o meno, che ci piacciono, l'unico che ha proposto una visione del mondo, delle studio encicliche, laudato sì e fratelli di tutti, è Papa Francesco. Può piacere o non piacere, ma penso che molti di voi abbiano letto la laudato sì, è indubbio che nella laudato sì, nel concetto di ecologia integrale, ci sia una visione del mondo come come dovrebbe essere, se vogliamo, e torniamo al titolo, sopravvivere. È la sopravvivenza, stay alive, come dice lei. E le cose che dice il Papa sono molto simili a quelle che dice Vandana, quindi una critica del mal sviluppo perché distrugge la natura e assoggetta gli emarginati, soprattutto le donne, il popolo indigene e così via, ma anche la proposta, perché questa è stata la forza di Vandana Shiva, tutta la prima parte del libro di critica documentatissima. E l'altra parte è, costantemente, il richiamo a che cosa? Al principio femminile. Il principio femminile, che lei chiama Praktri, che è un nome proprio della cultura indiana, che è la forza generatrice della natura. Non so quanti di voi conoscono il Degarda di Bingen. Il Degarda di Bingen era una monaca benedettina, una badessa, del 1100, che ha fondato vari conventi. Vedete bene, nei suoi conventi non vestivano di nero le donne, le monache, vestivano di colori della natura, verde, rosa, si cantava, si ballava, pensate che scandalo che fece. Lei parlava, nel libro che ha scritto, perché era un medico, una scienziata, della viriditas, parola latina, per dire la stessa cosa di Vandana Shiva, la forza generatrice della vita, che è anche nelle donne, che unisce la parte femminile, e ripeto, da cui non sono esclusi i maschi, e che genera la vita, che mantiene la vita, che fa quel lavoro di cura che la povera tapina, l'ancella lì dell'Olimpo, faceva all'epoca sua. Vedete come tu sottiene, perché io vi sto parlando del libro di Vandana, ma in realtà vi sto parlando di molto altro, perché il primo, la prima regola, il primo comandamento, mi verrebbe voglia dire, dell'ecologia, tu sottieni, ogni cosa è collegata ad ogni altra. Quindi la visione olistica, la visione circolare, che mette insieme appunto cura, interconnessione e autentica sostenibilità, è semplicemente la roadmap, per dire una parola che adesso tutti usano, per non salvare il mondo, perché madre terra, noi la possiamo funestare quanto vogliamo, però è una signora di una certa età, che ha viste ben altre, per garantire la sopravvivenza dell'umanità, siamo a questo, e questa guerra ce lo sta buttando in faccia, perché noi l'abbiamo imparato con la pandemia, e ora forse non impareremo con la guerra, e ragazzi, a un certo punto madre terra ci darà un calcio e avrà fatto bene, perché è quello che ci meritiamo. Per questo io continuo a dire che il problema grande è qui, perché non è possibile, noi sono 50 anni che ripetiamo le stesse cose, se lo ripetono gli scienziati dell'IPCC, sapete che ci sono questi, più di migliaia di scienziati nel mondo, che fanno il monitoraggio del cambiamento climatico, e ogni tanto tirano fuori questi rapporti, uno più raggelante dell'altro, l'ultimo dicono a chiare lettere, se vogliamo sopravvivere, in 7-10 anni, quello che dice anche Greta Thunberg, che dicono i ragazzi, quelli hanno deciso, io l'ho conosciuta la Thunberg, poi due parole anche su di lei, i ragazzi si sono chiamati Fridays for Future, noi abbiamo i nostri figli, i nostri nipoti che dicono, per piacere ma potremmo avere un futuro? E non ce ne può fregare di meno, andiamo avanti allegramente come prima, ma come si fa? Come si fa? Io tutte le volte che guardo la mia nipotina che ha 8 anni, mi dico, ma sta creatura poi? Credo che sia un pensiero che attraversa la mente di tanti di voi. Io voglio fare tutto il possibile sulle orme delle Vandane Shiva, e sono stata molto felice, appunto di piangere di commozione, quando nel 2019 ho visto tutti questi ragazzi in piazza, e quando è venuta Greta Thunberg al Senato, perché non so se avete visto in televisione, a un certo punto la Casellati l'ha invitata, l'ha presentata Giovannini, che adesso è un ministro, e io sono stata invitata in Senato, e guardate, e sedevo per caso, insomma, dietro al papà della Greta, e avevo portato una delibera fatta dalla prima circoscrizione di Roma, che praticamente è la Roma antica, la Roma storica, una delibera sull'emergenza climatica, firmata da tutti, perché queste cose le firmano tutti, poi magari quando si tratta di farlo è diverso, però l'ha firmata tutti. Avevo tradotto la letterina dei presidenti delle commissioni, non ho fatto tempo a tradurre la delibera, perché tra l'altro chi conosce le delibere sa che sono complicate. Allora mi sono data il padre di Greta, e mi sono scusata, ho detto, guarda, sorry, I didn't have time to translate, non ho avuto tempo di tradurre la delibera, e lui fa, non si preoccupi, perché qua, voi, i giornalisti dicono che la Greta è teleguidata, ma questa, indicando la figlia, ci ha obbligata noi, madre e padre, a fare il viaggio in treno da Stoccolma qui, e mo' ci obbliga a tornare in treno, altro che teleguidata, voi dovete proteggere noi, insomma, una battuta, ma molto carina per far capire. In realtà sta ragazzina, 16 anni ne dimostrava, 11, 12, andrà bene, 12, estremamente fragile, ma sapete quei fili di ferro? Con uno sguardo che veniva da un'altra dimensione, come se veramente lei, lei è passata indenne attraverso le critiche, anche le minacce che ci sono state, le cattiverie che si sono sprecate, non le importava niente della televisione, si capisce, no, quando una si gloria, non portava niente, a lei interessava solo la salvezza del pianeta, perché poi lei ci ha spiegato, essendo autistica, mia sorella me l'ha spiegato, Donata è psicologa di comunità, loro, perché la natura dà e la natura toglie, no? Quindi un bambino autistico che ha tanti problemi, però è capace di concentrarsi su un obiettivo, come magari i nostri bambini non fanno, perché sono più distratti da tante cose. Lei non era distratta da niente, così. Ha fatto il suo dovere, secondo me, se adesso anche ha svegliato il mondo, se adesso anche ritorna a fare la sua vita normale di ragazza, io spero che la possa fare, come ha fatto Malala, è giusto che sia così, perché stare sulla breccia tutto il tempo, c'è riuscita, vandana, ci riescono forse quella della mia generazione, perché noi siamo abituati ai tempi lunghi, ma i ragazzi, ne parlo anche con questi di Fridays for Future, in un tempo così accelerato hanno difficoltà, perché, dimmi quando devo concludere perché sto andando forse un po' troppo in là, perché oggi come oggi, e questo lo dice sempre anche Vandana, ci sono due elementi di cui tener conto, uno è la complessità, il fattore C, complessità, ogni cosa è collegata a ogni altra, come dice lei, come diciamo anche noi ambientalisti, e quindi tu non ti puoi sottrarre alla sfida della complessità, ma siccome problemi complessi richiedono risposte complesse, questo richiede tempo, il fattore più importante oggi è il fattore T, il fattore tempo, naturalmente Vandana ne parla molto di meno, perché? Perché nell'88 c'era ancora la sensazione che davanti, insomma, una bella cinquantina d'anni c'erano, e infatti ci sono stati cinquant'anni buttati al vento, io ho lasciato la politica dei partiti perché era perfettamente inutile, tanto, destra e sinistra, con tutto il rispetto, non gli ne poteva, fraga di meno, a nessuno, e siccome noi avevamo pochi voti, le stesse cose che adesso dicono tutti, le dicevamo allora, ma non erano ritenute interessanti, tranne da qualcuno. Va bene, è inutile recriminare, perché? Perché io ci ho pensato a lungo, perché chiaramente dopo un po' ti vengono i nervi, dici, ma cavolo, come dice la mia nipotina, ma zia, ma so decoccio? E dico sì, so decoccio a Roma vuol dire, non so come dite qua voi, insomma, così più o meno, comunque so decoccio, dico sì, so decoccio. Ma comunque io mi sono resa conto di una cosa, che come per Vandana Shiva, ne abbiamo anche parlato, essere un forerunner, come diceva lei, cioè una che precede i tempi, è scomodo, perché per anni e anni e anni, forse decenni, gli altri ti considerano così, eccentrica, se va bene. Però, lei diceva, ed è verissimo, eresia, sei un'eretica quindi, però eresia che cosa vuol dire? Vuol dire scelta, una scelta che va controcorrente, quindi l'eresia ha la tendenza a diventare ortodossia, e infatti adesso sta diventando, o stanno fingendo che sta diventando ortodossia. Cioè voi accendete il televisore, andate sul computer, ogni due per tre c'è qualcuno sostenibile, green, no? Che vi dice che tutto va bene, è meraviglioso, sono tutti ottimisti, beati loro. Capito? E viviamo un po' in un mondo di finzione. Anche questa guerra, se ci pensate, è una guerra molto, è una guerra fatta con le armi, i tanks e tutte queste cose terribili, però è fatta anche con le parole, con la finzione, non sappiamo più dove è la finzione e dov'è la verità. Io personalmente ve lo consiglio anche voi, mi risollevo con i libri, perché a parte il libro di Vandana Shiva sto rileggendo molti classici. E qualche giorno fa mi stavo rileggendo le metamorfosi di Ovidio, che avevo studiato a scuola, Dupalle, e poi invece le rileggo e mamma mia, che roba. A un certo punto c'è una descrizione della Casa della Fama. Questa Casa della Fama è un edificio tra il mare e la terra, senza porte, senza finestre, da cui entrano tutti gli spifferi, tutte le voci. E queste voci, il gossip, come diremmo noi, vengono dilatate, vengono infiate e quindi si spargono per il mondo a velocità incredibile e costituiscono quello che adesso noi chiameremo fake news. Cioè era una fabbrica di fake news antelittera, quindi tu cominci a dire l'umanità. E poi c'è un altro bellissimo, ve lo consegno per la meditazione. Un altro bellissimo verso che secondo me condensa la tragedia umana benissimo, la tragica storia dell'umanità, che dice in latino, video meliora probocque, deteriora securo, che vuol dire vedo le cose buone, migliori, e le approvo, ma seguo quelle deteriori. Ci riconosciamo tutti in questa frase. E questa è la tragedia. Allora, e qui concludo, perché poi vorrei, se volete, non so, non è una prevista, magari così, perché a me piace il dialogo, quindi però mi hanno detto, non sono previste le domande, però se qualcuno vuole ce n'è una. Allora, perché è importante la lezione di Vandana? Perché appunto è una lezione incredibile di coerenza tra il dire e il fare, di intelligenza calda, cuore, cervello, ragione e sentimenti, e di una persona che pur essendo un'eretica, e quindi portando sulle spalle, io nel mio piccolissimo ne so qualcosa, questa frustrazione terribile, di ripetere sempre le stesse cose senza arrivare al dunque, e peggio ancora, quando poi tu arrivi vedi che vengono distorte, per far vincere di nuovo il modello di sviluppo attuale, che è chiaramente insostenibile a livello ambientale e sociale, perché non può andare bene uno sviluppo in cui otto persone al mondo hanno più soldi, più denaro di metà dell'umanità. Cose da pazzi! E li spendono per mandare su questi razzi dalla forma fallica, diciamola tutta, e ti cadono le braccia, dice un'altra volta, ancora lì siamo, ecco. L'ultima cosa che volevo dire di Vandana è questo incredibile coraggio, ereditato dalla madre, dice sempre lei, nel dare forza a quelli che io chiamo i punti luce. Chi sono i punti luce? Io ne vedo tanti in giro, in Italia, in Europa, nel mondo, sono persone, realtà, organizzazioni, movimenti, imprese anche, che fanno bene le cose buone, che costruiscono sostenibilità autentica, però questi punti luce quasi mai fanno costellazione, non fanno quasi mai costellazione, non si mettono assieme, non si conoscono, non sanno la forza che hanno. Ecco, io nel mio piccolo, da quando ho lasciato la politica, quella dei partiti, mi sono messa a, nel mio piccolo, ad aiutare i punti luce a fare costellazione. Quello che ha sempre fatto Vandana a un livello molto più alto, è quello che molti di voi, sono convinta, fanno nella loro vita quotidiana, perché tutti noi possiamo farlo, ecco, tutti noi possiamo farlo, e penso che sia, io adesso in questo momento sto facendo anche una consulenza alle donne imprenditrici, che pure loro sono svegliate, vogliono partecipare, fare in modo che, e dicevo ieri sera, ho fatto un colloquio con loro, perché guardate che l'affare del secolo, il business del terzo millennio, è tenere in vita, la fabbrica della vita, quella meravigliosa rete di ecosistemi, meravigliosa ma fragilissima, che ci ha permesso di vivere, di sopravvivere, survival, come dice lei, come dice Vandana, fino ad oggi, e che ci permetterà di staying alive, essere vivi domani, e essere vivi vuol dire non rinunciare, quello che io chiamo lo sguardo dell'anima, dovete sapere che chiudo su questo, io ho scritto due libri sul rapporto natura-spiritualità, perché nel 1989, come giornalista di Ayrone, sono stata mandata dieci volte, 89, 90, 91, in Amazzonia, perché allora cominciava la battaglia dei popoli indigeni, e ho imparato tantissimo dalla cosmovisione indigena, dalla loro capacità di avere uno sguardo olistico, e dalla loro capacità, parlo delle tribù, delle etnie che non sono ancora state stravolte ovviamente dal contatto con gli occidentali, dalla loro capacità di capire, di far capire che il tuo paesaggio interiore, il paesaggio interiore di ciascuno di noi, è altrettanto fondamentale che quello esterno, è che i due sono a specchio, quindi tu non puoi portare un cambiamento nel mondo, questo lo diceva anche Gandhi, no? Sì, il tu, il cambiamento che vuoi portare non lo puoi portare se tu non togli dentro di te, non puoi toglierli completamente, ma almeno essere consapevole, come ha fatto la Roling con i bambini, che tu devi saper conoscere la tua parte oscura, la devi conoscere, guardare in faccia, cercare di controllare nei limiti del possibile che siamo umani, quindi qualche scivolata la faremo sicuramente, questo nel mondo occidentale è stato completamente messo da parte, soprattutto nell'educazione dei bambini, anzi mi domando, ma li educhiamo ancora questi bambini? Qualcuno si preoccupa di educare i bambini, che non è la stessa cosa che portarli al supermercato, comprarli le cose, diciamolo fuori dai denti, io non so voi, ma nelle camere delle mie nipotine ci sono tanti giocattoli che basterebbero per 50 bambini somali, ecco, e però i bambini sono gli arresti domiciliari, se non c'è un'anima buona che va lì, li prende, li porta in piscina, li porta, poi fanno una vita a certe volte che, insomma, anche starli tranquilli a guardare il cielo, no, eh? Questi bambini hanno perso la ricchezza, ecco il concetto importante, la ricchezza più importante che è quella della libertà interiore, della libertà di conoscere il mondo in maniera diretta. Allora, un punto importante del libro di Vandana è quello che mette bene in evidenza la differenza tra povertà e miseria. Diciamo, oh poverini quelli del terzo mondo, orribile definizione. Io ci sono stata col poverini del terzo mondo, ho dormito in una maca nella foresta amazzonica, tanto là, scusate, fa caldo, ci avevano tre magliette, era più che sufficiente e poi loro sapevano come procurarsi il cibo, senza però distruggere la natura. E vivevano una vita del tutto dignitosa e non misera. Cioè, ma non hanno le case come l'abbiamo noi, ah, ma non hanno il bagno con questo, quell'altro, ma non hanno... ma noi adesso le abbiamo... in gran parte abbiamo distrutto la loro civiltà e la loro cultura, ma quelli che resistono, io grazie ce l'ho incontrati parecchi, parecchi punti luce, hanno una cultura, una cosmovisione di serie A e sono quelli che possono continuare a vivere nella foresta, se Bolsonaro glielo permette, senza distruggerla, procurandosi tutto ciò di cui c'è bisogno e soprattutto vivono con un senso di comunità che noi abbiamo assolutamente perso. Noi siamo ormai frammenti, soli davanti al nostro schermo. Io andavo a parlare nelle scuole prima della pandemia e veramente mi trasfigge l'anima quando vedo questi ragazzini tutti lì, ognuno sul proprio... è difficilissimo distoglierli, lo so, ed è comunque probabilmente ogni generazione al suo destino, però, insomma, questi bambini che io vedevo lì, i bambini tra virgolette poveri, mi sembravano molto più allegri, molto più lieti, molto più capaci di divertirsi con niente, dei nostri ragazzini superviziati. Questo è il punto. Allora, questa capacità di avere quello che chiamo lo sguardo dell'anima, cioè lo sguardo che va oltre le divisioni di sesso, di colore, di tutto questo che grazie al cielo è abbastanza diffuso ormai nella nostra civiltà, è lo sguardo che poi può creare le costellazioni. Naturalmente non ci si deve limitare allo sguardo, e ci insegna Vandana, quello è uno sguardo che dà i frutti come la natura, perché le donne, come dice lei, se non si omologano al modello maschile, sono quelle capaci di produrre vita, così come fa la natura in maniera gratuita, e tant'è vero che il lavoro domestico mi risulta che non si è pagato neanche quello di tirarsi i figli, però se poi devi chiamarla babysitter, quella la devi pagare, perché è un lavoro, non so se siete dentro l'idea. Allora, comunque, la natura lavora con grande generosità, le donne anche, ci va anche bene, però ecco, noi vogliamo restare vive e vogliamo restare vivi, ci sono sicuramente anche tanti maschi che io ne conosco tantissimi, capaci di questo sguardo dell'anima, capaci di pensiero critico, che vogliono appunto vivere la vita nella sua complessità, nella sua bellezza, così come la descrive e come continuamente la difende Vandana Shiva. Io spero che chi non l'ha ancora incontrata abbia presto la gioia di incontrarla e chiudo qui ringraziando ancora, come ho fatto all'inizio, anche per la pazienza e il fatto che siete venuti, che con una giornata così, uno c'era voglia di andare al mare a farsi una bella passeggiata, spero che potrete farla adesso, quando noi chiudiamo. Grazie. Grazie davvero per questo dono inestimabile, grazie a tutti voi. per essere venuti qui questa domenica. Poi le domande qui ci sono in maniera informale, perché noi appena scendiamo qui si avvicinano le persone, domandano, fanno, quindi è in un modo molto legato a questa piccola comunità che si è creata, a questa piccola grande comunità che si è creata intorno a questa manifestazione che si chiama il libro della vita. Grazie ancora a tutti voi, buona domenica.